All'indomani del vile gesto di razzismo nel mondo del calcio per quella ignobile maglia con la foto della bambina Anna Frank, a Teramo si risponde con un incontro all'università che ha ospitato la regista Lorenza Mazzetti. Un racconto lucido e straziante il suo, davanti ad oltre 700 studenti, sulla morte della sua famiglia trucidata dai nazisti proprio davanti ai suoi occhi. Nipote di Einstein, la Mazzetti, oggi novantenne, ha fondato il movimento del free cinema inglese vincendo il Festival di Cannes nel 1956 con il suo primo film Together, girato quando era appena ventenne. L'incontro è stato curato dal Centro di Cultura delle Donne Anna Arendt, presieduto da Gwendalina Di Sabatino. Come è venuta l'idea di invitare proprio Lorenza Mazzetti a Teramo all'università? È stata una situazione, una combinazione felice perché stavo assistendo in televisione all'intervista proprio a Lorenza Mazzetti quando hanno presentato a Venezia il documentario Io sono un genio di Steve Della Casa e così ho subito deciso che sarebbe venuta a Teramo, che era una figura assolutamente straordinaria, lo si capiva da subito, dalle prime battute e quindi oggi è qui. Proiettati anche spezzoni di film della Mazzetti, molti di essi risentono del trauma per l'assassinio politico dei suoi familiari, compiuto dai nazisti per rivalza contro Einstein che si era rifugiato in America. Per tanti anni ho rimosso quel ricordo e quel dolore, ha detto la regista agli studenti Teramani, e per questo mi ero ammalata. Sono guarita solo quando ho iniziato a raccontare al mondo, attraverso film e libri, quell'assurdità che ho dovuto vivere.